per fare la granita di jersey ci servono 400 g di more di jersey lavate e pulite per pulirle si deve togliere il picciolo e risultano così poi 150 g di zucchero di canna il succo filtrato di un limone e 400 ml d'acqua vediamo com'è il mio maritino già mi ha detto che è buona vediamo se io provo c'è ragione il mio buffo buonissima ottima con la brioche con il tupo di cui ti ho fatto vedere la ricetta qualche giorno fa se questa granita ti è piaciuta iscriviti regalami un like e condividila sui social ciao